Queste due lire e mezzo era il biglietto per il costo di un pacco a teatro a Firenze. Una raccolta numismatica tanto unica quanto preziosa, quella in esposizione ad Arezzo, tanti e oltre 200 i spiccioli di carta in mostra alla Casa Museo Ivan Bruschi. La carta moneta non è mai stata accettata, almeno all'inizio subito, perché? Perché la carta moneta ha un valore intrinseco molto diverso da quello nominale. Il valore intrinseco è carta e il valore nominale è quello che gli dà. La mostra si intitola infatti Spicciori di carta, rare testimonianze di una vicenda monetaria tra il XIX e il XX secolo. Cioè il denaro con il quale la popolazione del Regno d'Italia faceva i pagamenti minuti in un momento in cui scasseggiava la moneta metallica di corso legale. È la prima in Italia dedicata a quel fenomeno economico che si è sviluppato subito dopo l'Unità d'Italia che va sotto il nome di circolazione fiduciaria abusiva. Teniamo presente che lo Stato non ha mai autorizzato queste cose e la loro stampa è stata possibile effettuare perché non c'era una legge che regolamentava il diritto di emissione. La mostra espone una parte significativa della collezione di carta moneta di proprietà di Intesa San Paolo conservata presso la Fondazione Ivan Bruschi, mai esposta prima, e visitabile sino al 27 novembre 2022. La Casa Museo naturalmente come sapete è entrata per parte del patrimonio di Intesa San Paolo e fa parte ora a pieno titolo delle Gallerie d'Italia. Continua quindi il percorso di Casa Bruschi nel mostrare alla città e diventare polo attrattivo anche di queste mostre che sono cosiddette non propriamente scontate.